Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo al Model Expo e dato che il primo paliglione che abbiamo visitato era stranoioso, secondo me, andiamo a visitare quello dopo che è questo qua. Guardate che città lì, veramente stupenda, direi che è veramente stupenda questa città, guardate fino a dove si stende, ora andiamo lì giù. Vediamo. 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 ... ... ... ... ... Sì, sì, io ho fatto una macchina, e già facciamolo. Guardate qua che luna parte. Lì è la cazzo. Quello lì è la cazzo. Guarda, c'è pure un ragno. C'è un ragno che lo mette indietro. Eh, guardate quel ragno. Guarda, guarda il ragno. E guardate questa giostra qua. Secondo me non va, però queste qua sono tutto in movimento qui dentro. Direi che un bel lavoro c'è dietro. Cioè, l'IKEA senza il tetto, i Minus che vanno all'IKEA. Aveva appena fatto andare il loop, come lo chiamano qua. Era appena passato però, vabbè, non sono riuscito a registrarlo. Qua c'è stato un amicidio, c'è un po' un autobus Lego, con il volino Lego, però vabbè. Un scrabbano che c'è visto. Signore, guardate i dettagli. Quasi. Quasi trepe. Grazie per la visione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.